Una task force partita all'indomani del Comitato della Sicurezza e Ordine Pubblico per il controllo del territorio dopo i numerosi fatti di sangue avvenuti nei quartieri cosiddetti a rischio. Ieri pomeriggio, nell'ambito di questi controlli, gli agenti della Polizia del Commissariato San Paolo insieme a quelli dei reparti Prevenzioni Crimine di Cosenza e Siderno e aiutati da un'unità cinofile e dal personale del Vigili del Fuoco hanno effettuato un'operazione ad alto impatto su un isolato di via Catone. Alle 15 Poliziotta hanno effettuato un'accurata bonifica di tutto lo stabile comprese le sottoscale e i tetti. Dopo aver perquisito numerose persone si sono arrampicati con notevoli difficoltà sul tetto spiovente, risultato particolarmente scivoloso e senza parapetto di uno dei palazzi. Nel corso dell'ispezione è stato rinvenuto e smantellato un sistema di videosorveglianza composto da 10 telecamere, una centralina e numerosi cavi. Il sistema era infatti in grado di controllare l'intero isolato. Successivamente, in un vicino terreno incolto, è stato rinvenuto tra la vegetazione un giubbotto antiproiettile con una palina per le segnalazioni stradali. Poco dopo, in una cassetta di ferro nascosta in un sottoscala, sono stati rinvenuti circa 700 grammi di cocaina, circa 50 grammi di speedball, una rivoltella calibro 38 special dotata di 6 cartucce, una pistola Vector calibro 9 con matricola brasa dotata di altre 11 cartucce e un'altra pistola Beretta calibro 9 Parabellum con matricola brasa e 7 cartucce, nonché due raccoglitori con ben 80 cartucce calibro 38 special a piombo nudo. Ora si cerca di risalire ai possessori delle armi e della droga e verranno effettuate delle analisi sulle armi per capire se sono state utilizzate per fatti criminosi.